Metà play-off raggiunta dai ragazzi dei Mad Bulls Barletta. Il risultato conseguito sabato scorso contro i Salento Dragons nella sfida sfareggio disputatasi al Manzi Chiapolin di Barletta eseguita come sempre dalle telecamere di Telerigione. Emozionante il match, una partita che si preannunciava difficile vista la caratura degli avversari in netta crescita sul finire del campionato e ben noti per la loro grinta e determinazione. La pressione della difesa salentina si è fatta subito sentire infatti, impedendo ai Mad Bull di finalizzare i drive offensivi restituendo palla su fumble e su intercetto all'attacco avversario. Galvanizzati i Dragons sono riusciti nel secondo quarto a scardinare un'ottima difesa barlettana con un passaggio ricevuto in end zone e successiva trasformazione da due punti per il provvisorio 0-8. Una partita dominata dalle formazioni di difesa ma con un attacco ospite che lentamente guadagnava yards fino al big play che ha mutato l'inerzia della gara. Sotto la pressione delle linee di difesa Mad Bulls, Allegretti, Melis e Pellegrino il quarterback ospite forzava a un lancio appena sferato dal suo ricevitore in traccia corta ma a preda del cornerback Nico Curci che grazie ai precisi blocchi del linebackers, Torre e Maselli si involava per quasi 50 yards in touchdown. Una doccia fra i da per i Dragons e un'iniezione invece di fiducia per i padroni di casa che con qualche aggiustamento alla formazione offensiva andavano a segno con Bruno più due punti extra per il definitivo 14-8. Una vittoria che ha significato molto per i ragazzi in capo e per l'intero staff dirigenziale guidato dal presidente Manuel Marzocca soddisfatto di essere riuscito in soli due stagioni a portare i Mad Bulls ai play-off della South Conference del campionato nazionale di football americano Chief Nova e Fidaf. Nella programmazione di questo campionato l'ipotesi play-off era stata considerata come obiettivo a cui mirare ma la sola crescita del team sarebbe stata già un risultato accettabile ha detto emozionato Marzocca. Un sogno che si è materizzato durante una buona regular season fino ad arrivare alla sfida a spareggio di sabato 26 contro i Salento Dragons seguito da un sempre maggior numero di supporters che da quest'anno può contare anche sulla diretta tv su Ero News Puglia e Telerigione. Notte di festeggiamenti per i Tori Matti.